quella di fantini è una storia molto bella che nasce nel 1946 da mio papà e da mio zio due fratelli accomunati dalla passione per innovare sperimentare e anche la capacità di rischiare e fare le cose difficili quelle cose che forse altre aziende non avrebbero mai pensato di fare e ancora oggi dopo 70 anni la voglia di sperimentare il motore della nostra creatività lo stimolo a creare qualcosa di nuovo bello innovativo migliore rispetto a quanto esiste già perché fantini è un'azienda che ama realizzare prodotti innovativi dietro ogni progetto sperimentale c'è un rischio non ci ha mai fatto paura affrontarlo se capiamo che potrà portarci più avanti potrà superare la soglia di quanto fatto finora portando un'innovazione magari anche piccola ma significativa tutti i nostri progetti nascono così dalla curiosità e dal desiderio di continuare a sperimentare il nostro modo di fare prodotti viene da lontano è coerente nel tempo è coerente con la nostra storia tutte le volte che intraprendiamo un nuovo progetto noi ci mettiamo l'obiettivo che possa durare nel tempo sia per la sua qualità e affidabilità che oggi sono imprescindibili sia per il suo disegno investiamo la gran parte delle nostre energie sul prodotto perché è il fattore determinante il più importante per creare l'identità e la comunicazione di tutte le fabbriche del design italiano come la nostra maggiore mi piace mi piace mi piace mi piace Grazie.